Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei due sul server con un giochino che ci farà prendere tante donne Lo sapete, lo sapete che sul nostro canale ci sono solo 4 donne in croce Quindi questo giochino lo faccio per voi, cari ragazzi Perché l'ho fatto a ridurmi così Come l'ho fatto Va bene, va bene ragazzi Sì Va bene ragazzi, bentornati su Quei due sul server Due con Lovely Planet Un gioco che ho scoperto grazie all'amico Barbaroffa Dove ci sono i cuoricini Per terra, ci sono i cuoricini Cari ragazzi, mi piacerà tantissimo questo gioco La musica mi piace un sacco, è molto prezzante, allegra Non ho idea del da farsi Oh, che figo Succhio le cose Succhio le cose Ho voluto lasciarci la musichetta perché è troppo allegra Non avrei mai trovato una musichetta Spara i cazzi di cuoricini Sparo i cazzi di cuoricini Sì Allora, Walking to Pillar Ok Ho finito il livello Cazzo Cazzo Che cazzo è una carota gigante? Non lo so Comunque, care donne, quanto vi piace questo gioco Oh Che Questa cosa che cos'è, una ringhiera? Vabbè Andiamo di qua Delle ringhiere messe random Cioè, delle lecca lecca Io devo andare nel Pillar Oh Cazzo È bello donne Cazzo Ragazzi, quanto è eccitante questo gioco Escono le parole in gioppo cinese qua Aspetta, queste cose si possono succhiare Oddio So che qualcuno si parla dei meme assurdi su questa cosa Oh Ho finito un altro livello difficilissimo Cazzo Oh Che cazzo Ah, questi sono dei buoni Ok Ah Ok Sì Oh Che bello Un'altra cosa da succhiare Volo cancellato Quanto è divertente ragazzi questo gioco Eh Vai Next Come si cazzo Si creme Next Invio Che cos'è questo? Missile Missile Un vibratore Che sei tu? Ah Sono troppo bro a questi giochi Wow Quanto sono bravo Andiamo avanti Ah 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 Eeeh No, non ci credo che sto facendo questo Tieni Sono un cecchino Sono un cazzo di cecchino Ah, posso intercettargli i colpi Potenza delle pallette quadrate Ah Dove cazzo dovevo andare? Il pillar di merda Voglio andare di qua Oh Vado di qua Oh Miss Boys Oh ma Devo distruggere per forza Tutti i cazzi qua Manetta Manetta Ah Adesso le palle Sì Le palle Andiamo avanti Qua Su Succhiare le cose E mo Devo saltare Prova a saltare Sì Yeah Oh Pensavo che fosse uno di quei funghi Succhiosi Madonna Che cecchino ragazzi Devo fare il giro di qui Ah Oh No Che cazzo era quel coso? Sono un cecchino Sono un cecchino Cecchinato Ah Sì Ok Ah 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 Ammi il pillar Fatto un record mondiale World record 5 secondi Come ha fatto a farlo in 5 secondi e 5 Ci sono anche delle persone che cercano di farci i record mondiali Comunque ragazzi La prima volta che ci giochi Che cazzo devo leggere qui Non devo fare niente C'è una carpa Come una carpa Più Che cazzo devo fare qua? R R e R Trai Wrong Ah Wrong way Mamma mia Quindi devo andare di qua Ah Che burloni Eh ormai Vai Ho fatto un Record mondiale è 6 secondi Poi me lo spiegano come l'hanno fatto in 6 secondi No Andiamo avanti Va bene io mi perdo a cazzo Non lo so ma mi sta più Questo è il record è 3 secondi se tanto mi da tanto 5 secondi Io ci ho messo 12 Allora che facciamo? Facciamo una run di queste cose Eh care ragazze Care ragazze Dai Che facciamo una run? Sì Ah Merda Ce l'ho ce l'ho Pa 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 Ma Manco ma zinga zeta 13 secondi 11 secondi Dai 8 secondi il record mondiale Eh Tieni Una carpa Vai Vado verso il cilindro gigante No Ah quei cosi ti ammazzano Adesso ho capito Surgere tutti i mostri Devo far fuori i mostri mondiali No No Non è possibile che mi abbia ammazzato Figlio di baldracca Non devo dire parolacce In questo video ci sono le raga Porca madosca Non devo dire Parolacce Adesso mi impegno Mi impegno Tieni prendete l'ingulo Merda Dai Spiega No Oh Oh No Affancio Dai Ma questi mi intercettano Sparano in pre fire Oh 16 secondi World record 6 No Perché non Non ho ammazzato tutti Ancora Sì Questo sta in pre fire Oh ho finito Adesso si Ah 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 ma devo ammazzare tutti i cazzi Quanti ce ne stanno qua Cucu Dai Ti Ti Sono No Ce ne manca uno forse No World record 5 secondi Io ce ne ho messi 15 Come dio Start Ok È un altro livello Stufo Stufo Corcomare Uh What the fuck What the fuck What the fuck Madonna È un world record 12 secondi Press and hold space Ok Press and hold space Ah aspetta, devo mantenere premuto perché Non ce la faccio Ok, vabbè, bastava dire salta Che cosa sono questi cosi succhiomani? Dovevo andare Si sale, è di qua Ammazzo, oh no Ah sono io a distruggere Sto capendo tante cose, è la prima volta che ci gioco ragazzi Bella, bello zio Oh Vaffanculo tua sorella No, dicevamo È molto bello questo gioco Ti intrattiene Ti intrattiene come un Come un cazzo di callo Nel deserto Ho perso, ho perso Ho perso, vaffanculo Che gioco di me No Ce la faccio Ce la faccio Ce la faccio Ce la Giuro Giuro Ce la faccio Ce la faccio Sono Sono più convinto di me adesso Adesso Ah di qua Di qua Ah, ah, ah Ti ho preso, merda Ti Tien C'è qualcuno C'è qualcuno Lo so, lo so Eh, pezzi di merda Ah, ah No No, ah, 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 ah No, ah, ah, ah Eh, sta faccio Non sta faccio Non sta faccio La babà No No Perché è la musichetta Che ti ingrippa E ti fa Ti fa in qualche modo A andare a A distruggere cose In modo Fantaziosamente Fantazio Carcama D'asca Che ta E fa Fa Solita Eh, cerchinato C'è una merda Qua dietro Eeeh Spondo di mazzate Anche a te Va Fa culo No Dicevamo È un bel gioco Allora ragazzi È bellissimo Questo gioco Questa musica È così Intrippante Giappone C'erano due Bravi persone Perché sono brave Che sono grigie E quelle rosse Madonna Eheh 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 No Gli ho sparato In un occhio Gli ho sparato Tien E prenditi questo E le Ah Che cosa Mi hanno sborato In faccia Ah Pesso di merda Ah Fanno Di luco Gioco No No Ah 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 Che Ah 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 Su Ah Come Ah No Aspetta Ho preso Grandi Via Ci fanno complicati I livelli Ok Andiamo avanti Cazzo Che è questo Un albero mela Che cosa Ok Ho deciso Prendi questo Prendi questo Dov'è Dov'è Ah Ah Che cosa Non è tanto Il gioco in sé La violenza che ti stira No Cacchio Io a sto gioco ci gioco No Cioè dove casca casca T'ammazza praticamente No Ragazzi non so come ho fatto Non so come abbia fatto Ma Ci sono riuscito Va bene Io non Non Sedici livelli Credo Questo è il sedicesimo Penso che basti Se vi va Vado avanti Facciolo se vi va Grazie a tutti